Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fame Chimica. Oggi vogliamo mostrarvi un video un pochino diverso e farvi vedere un paio di esperimenti molto carini che potete fare anche in casa usando la curcuma. Sigla! Per il primo esperimento servono curcuma, ovviamente, alcol, in questo caso useremo della vodka, ma va bene qualsiasi superalcolico, ed una torcia UV. Mettiamo l'alcol in un becker, lo illuminiamo con la torcia UV, dopodiché aggiungiamo la curcuma, che come per magia si trasformerà in un evidenziatore, rilasciando una fluorescenza gialla bella intensa. Il responsabile di questo fenomeno è una molecola chiamata curcumina, che assorbe l'energia luminosa della radiazione UV e passa nel suo stato eccitato. Lo stato eccitato è instabile e la molecola tende a tornare nel suo stato fondamentale. Per fare ciò dissipa energia sotto forma di radiazione visibile, sprigionando la fluorescenza che abbiamo appena visto. Ma la curcuma può essere utilizzata anche per un altro esperimento molto interessante. Infatti questa spezia è un buon indicatore acido base. Se si aggiunge la curcuma ad una soluzione acida, come per esempio il succo di limone, rimarrà del suo giallo caratteristico, ma se si aggiunge ad una soluzione basica, come per esempio la candeggina, o in questo caso l'ammoniaca detergente, assume un colore rosso molto intenso. Anche in questo caso il cambio di colore è dovuto alla curcumina, che in ambiente basico reagisce convertendo il carbonile di un chetone in un gruppo ossidrilico. Il cambiamento della struttura molecolare causa anche il cambiamento di colore. Bene, video rapido in dolore. Questi erano due brevi esperimenti che potete fare anche in casa con la curcuma. Speriamo vi siano piaciuti e in caso ci vedremo al prossimo video di fame chimica. Grazie.